buongiorno buongiorno occhio pecoro al top ragazzi la mattina sempre occhio pecoro perché è bello fare le storie tutti belli ma c'ho anche la testa ananas e occhio pecoro ci alziamo è lui o non è lui certo ma che schiso stamattina ha schisato a più non posso incredibile lo schiso coccodrilli ci siamo ci siamo no vabbè sta pieno pim 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 sta pieno anche stamattina mamma mia io non so più come fanno non so più come gesti sta cosa perché ci vorrebbe un po cioè sta sempre pieno boh o no non vivo ciao 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 ma che cazzo dici le chiavi della moto d'acqua è uscita d'acqua eh dove hai messi ma qui acqua le chiavi della moto d'acqua dove andà al panculo ma buongiorno eh buongiorno buongiorno raccomando eh fa il bravo eh sottopalla sta a posto il pelo com'è sta bene mi raccomando eh fate sentì chiamemi ciao ciao mi raccomando i capelli sempre così o no eh lasci fatti i quattro ducce già te l'hanno ossia che cazzo sciogli dai cazzo malattie Non so voi, ma per me è sempre super emozionante salutare i nonni, salutare la mamma, che bella, che bella la famiglia. No, io me la sento, me la sento, sta pieno di figa dai, poi così bello mi vedono uscire. Che stai fa? Sto pisciato e vuoi? Dove andai io? Adesso ho più piccoraggio. Ecco qua il biglietto, e lo mettiamo, mi raccomando zi già eh. Guarda come controlla, guarda come controlla il biglietto. Quanto comandi zi già, grande. Mi dicono, come mai non c'hai il telepass? Ragazzi c'è la zigiana e mi controlla il biglietto, che cazzo mi frega del telepass? Cioè, domande proprio folli eh, c'è la zigiana, sta là. Ragazzi, incredibile. Sto signore qua, adesso vi dico. Allora, guardate che scarpe che ho oggi. Vedevo che mi guardava le scarpe. Cioè, questa cosa fa super ride raga, veramente. Cioè, è assurdo. Vabbè, c'ho ste scarpe, mi fissava le scarpe. Cioè raga, fa super ride eh. Ascoltate bene. Allora mi fissava ste scarpe, mi guardava ste scarpe e io l'ho guardato. Lui continuava a fissarmi ste scarpe. Cioè, il signore là continuava a fissare le scarpe mie. No raga, fa super ride. Insomma, fissa le scarpe, mi guardava le scarpe e poi mi fa... Io gli faccio, ma non le viste mai un paio di scarpe? E lui... Cioè, assurdo. Sapete che mi risponde? Mi risponde in cazzo raga, non è vero niente. Sto signore sta sulla macchina sua, io sto sulla macchina mia e... Tutta sta cosa, non è vero una sega. Cioè, nessuno mi ha cacato, nemmeno per le scarpe. Cioè, non mi si incula nessuno. Guardate dove sono finito, non so se lo riconoscete. Ciao coccodrilli. È Luca delle minicar Parisi. Ma andate a vedere le storie successive, va? E seguite la pagina minicar. Vi aspettiamo. Magari io... A 14 anni una macchina così. Guardate. Si illuminava. La 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 la. Adesso vi faccio vedere subito i scarichi. Doppio scarico! Eccoci qua all'interno. Guardate. Sta pieno di optional, ma... Quali sono gli optional di questa minicar? Apple CarPlay da 9 pollici. Veramente grande. ABS. Aria condizionata. Retrocamera per la... Marcia. E sensori di parcheggio. Ma... Chi viene ad acquistare qua? È un coccodrillo. Io lo regaliamo un optional. Che io regaliamo? Regaliamo l'antifurto perimetrale. E io metto anche la maglia sta pieno. Quindi venite qui da Parisi. Capitolando. Chi acquista da Parisi Auto una minicar avrà l'antifurto in omaggio più una maglia di Carletto Life sta pieno. Giusto? Giustissimo, coccodrilli. Vi aspettiamo. Coccodrilli. Lui è veramente top. Per scoprirlo fate così col ditino. Swipe, swipe, swipe. Oggi è la giornata internazionale della Terra. E anche su Bidu Earth Day ragazzi. Ma guardate ora che cosa vi farò vedere. Qua tutte le aste chiuse. Un albero. Due alberi. Tre alberi. Quattro alberi. Cinque. Sei. Sette. Sta pieno di alberi raga. Pieno di alberi. Sta pieno di alberi. Otto, nove, dieci. E via seguendo. I vincitori delle aste avranno diritto ad avere un albero. E potranno dare un nome a questo albero. E monitorare tutta la crescita dell'albero all'interno della foresta di Bidu. Ora io vi lascio lo swipe e chiunque qualsiasi coccodrillo fa swipe riceve 10 puntate gratuite da poter utilizzare su Bidu e provare a vincere non solo un premio ma anche un albero a piantare nella foresta di Bidu. ... Ecco qui. E va bene. O una visitor. Non solo a te, perché quando mi credo, credo solo a te, ma mi amore. Ciao, c'è il padre Pio. È la prima uscita della Zy Gianna in carrozza. Saluta, saluta. Ciao, ciao, ciao. Si va alla grande, vero? Super locomotiva, yeah. Anche sotto le gallerie. Zy Gianna? Mamma mia. Ti piace il rally? Rally delle meraviglie. è Gianna, Avelia adesso non vieni vicino conosco tante di Gianna come Gianna? Dei Faustino mamma come siete? eh così, tiriamo avanti accontentiamoci un po' rimbambita Avelia ma troppo, troppo ti è piaciuta la passeggiata? oh yeah pronti per tornare su? saluta ciao e cavalli trovi una mattina con la foto sul giornale in quell'ultima vetrina la voglia di vivare il cavallio a percura a percura ho ripescato un video pazzesco la Cristoteca andatela a vedere l'ultimo reel che ho fatto prima ho messo delle storie belle veramente che proprio mandava dal cuore che bel panorama ma vuoi a percura a percura Grazie.